che vado a commentare anche con la ministra D'Adone, sicuramente le piacerà, l'ha vista Nancy Pelosi, no? Una donna forte, so che lei ha fatto anche ministra della funzione pubblica, grazie, fammela vedere. La clip 2, in che contesto è venuta? Ci troviamo, era il discorso sull'unità della nazione, State of the Union, che ogni anno il Presidente deve tenere, era il terzo discorso di Trump, alle sue spalle chi c'era? C'era Nancy Pelosi, che è la speaker del Congresso, guardate cosa è successo. In tre anni siamo passati dal massacro, dal disastro americano, alla riscorsa americana. Abbiamo sconfitto la mentalità del declino, la nostra decadenza economica è finita. Ecco, ovviamente, le dicevo, le piaceva, ma magari non so se lei cosa avrebbe votato negli Stati Uniti, Trump o la Clinton? Non mi sono trovata nella situazione, quindi per fortuna non l'ho dovuta scegliere. Ecco, no, però sicuramente è l'immagine della donna forte, comunque la si pensi, è l'immagine della donna forte, che a noi, direttore Fontana, la saluto e la ringrazio, ci fa sempre piacere trasmettere, comunque, insomma, le donne quando raggiungono il potere è sempre un buon segno per la democrazia e per l'economia. Grazie, direttore. Ministra, allora, pubblica amministrazione, partiamo da quello che state facendo, peraltro la sua predecessora si distinse molto, no, per la lotta agli assenteisti, è anche questa la vostra priorità o ce ne sono altre? Ce ne sono altre dal mio punto di vista, le norme contro i cosiddetti furbetti dal cartellino funzionano, perché i licenziamenti sono aumentati e bisogna essere severi con chi sbaglia, io questo lo continuo a dire, ma dall'altro lato penso che sia giusto invece puntare l'attenzione sui tanti meritevoli che ci sono nelle pubbliche amministrazioni, penso in primis anche al discorso dei precari, per esempio della ricercatrice dello Spallanzani, di cui tutti si sono riempiti la bocca, ma poi molto spesso se ne si dimentica quando si parla di valore all'interno della pubblica amministrazione, quando si parla di buon personale non si pensa mai ai vigili del fuoco, agli insegnanti dei nostri figli, agli infermieri. E che cosa pensate di fare per 350 mila precari che appunto lavorano alla pubblica amministrazione, dove però si dovrebbe accedere per concorso, no? Si deve accedere per concorso, assolutamente, questo è un principio costituzionale, vale anche... Se ci sono delle persone che lavorano, un motivo ci sarà, no? Certo. E non si possono neanche lasciare a casa. Assolutamente vero, infatti specifichiamo che quelli che sono i cosiddetti precari hanno superato un concorso a tempo determinato, quindi non è che non abbiano fatto il concorso. E che bisogna guardare entrambi i punti di vista, quindi da un lato aprire la nuova fase dei concorsi, incentivarla per mettere all'interno delle nuove competenze, con percorsi più veloci, per riuscire a permettere all'amministrazione di assumere e di rimpinguare il personale velocemente. Dall'altro lato per i precari invece, proprio in queste ore in Parlamento, stiamo approvando delle norme che gli permettano di riuscire ad essere riassorbiti all'interno dell'organico. Ma perché? Perché abbiamo anche la procedura di infrazione dell'Unione Europea che pende sui nostri colli, per i quali dobbiamo riuscire a stabilizzare del personale che è da anni precario. Noi su questo siamo in peccato, quindi dobbiamo riuscire a sistemare... Può dare dei numeri su quante assunzioni sono previste, anche per svecchiare la pubblica amministrazione? Numeri, a parte 500 mila concorsi, sui precari è difficile riuscire a darne perché sono conteggi che competono agli enti territoriali, per cui non sono mantenuti esclusivamente da noi. Il tema poi della burocrazia, il tema dei temi, ci ricordiamo, Berlusconi scese in campo, parlando di rivoluzione liberale, poi ancora ne riparliamo però, nessuno è mai riuscito a velocizzare i sistemi. Voi come ci state provando? Peraltro c'è anche l'altro grande tema di un personale AG. Se il personale è AG, è meno d'utile probabilmente nell'utilizzare metodi nuovi e telematici che sono a disposizione oramai di tutto il mondo. Certo, l'età media è decisamente avanzata, siamo quasi sui 52-53 anni. Sicuramente la fase dei nuovi concorsi svecchierà automaticamente perché permetterà alle nuove leve di entrare all'interno delle pubbliche amministrazioni. Dall'altro lato però dobbiamo continuare ad assistere e formare il personale. Con dei percorsi ci sono, Funzione Pubblica ha già studiato una piattaforma che permette al personale pubblico di capire qual è il proprio livello di competenza digitale e riuscire a fare dei corsi di formazione in autonomia per acquisire le competenze digitali. Poi è chiaro che questo va all'interno di un grande contesto sulla formazione che deve essere portato avanti costantemente perché se vogliamo una pubblica amministrazione efficiente dobbiamo anche permettere di investire sul personale e su queste manovre siamo intervenuti. E poi sul tema della burocrazia ce ne sarebbe da parlare per ore. Ci sono delle procedure di semplificazione che vanno sui punti. Aspettiamo di vedere qualche risultato così appena voi comunicate, ce lo faremo vedere perché facciamo un servizio utile a tutti i cittadini. Senta, lei citava le precarie dell'Università della Ricerca, no? Spallanzani. Un suo collega di partito, Lorenzo Fioramonti, si è dimesso e poi è uscito dal Movimento proprio per il tema dei fondi. Allora, so che lei già commentò questa vicenda, se vuole lo può rifare, ma questa vicenda mi porta al tema del Movimento 5 Stelle. Prima cosa, ha sentito Zingaretti che ha giudicato inopportuno l'appello di Di Maio a scendere in piazza? Ma non mi sembra inopportuno perché Luigi scende in piazza come un parlamentare, il tema dei vitalizi è un tema che ha riguardato il Parlamento e il Movimento 5 Stelle in prima linea, era una delle nostre grandi battaglie che siamo riusciti a portare a casa come risultato, un risultato storico che quasi tutti dicevano che non si sarebbe mai riuscito a raggiungere. Ora il Senato rischia di tornare indietro, è chiaro che scendiamo in piazza, non ci vedo niente di inopportuno. Scende come parlamentare. Però, Ministro, ma scende in piazza contro chi? Cioè, in genere, si scende in piazza in... No, non si scende in piazza contro nessuno di specifico, si scende in piazza per far capire a chi sta dentro i palazzi che la piazza monitora che cosa fanno i parlamentari. Io penso che sia un concetto molto giusto, come 5 Stelle l'abbiamo sempre detto, è importante accendere le luci nelle stanze. Se nel momento in cui una forza politica ritiene di aver ottenuto un risultato, la vecchia politica torna indietro, la piazza e le persone, i cittadini normali, si ribellano perché penso che a nessuno piaccia il fatto che si ritorni indietro sui vitalizi. Mi sembra una grande operazione di equità sociale. Sì, il tema però è sempre il movimento forza di lotto e di governo, in qualche modo. Io spesso faccio questa osservazione ai vostri, ai suoi colleghi. Voi avete portato a casa il battaglio dei parlamentari, avete portato a casa il tema dei vitalizi, il tema del rete di cittadinanza, eccetera. Come si spiega la perdita di voti? E quando le persone che escono fuori dal movimento, metto paragone, ma è uno dei tanti, vi dice che in realtà il problema non sono loro che escono o vengono cacciati, ma siete voi che avete tradito il dettato originario. Non le viene qualche dubbio? No, guardi, stare nel Movimento 5 Stelle non è facile, io lo capisco. Ho fatto i banchetti dalla prima ora, prendendomi le risate dei politici di professione dell'epoca, delle persone che pensavano non saremmo riusciti a fare niente, che quando saremo arrivati nelle istituzioni non ci saremmo tenuti, ci saremmo tenuti gli stipendi ed effettivamente non ce li saremmo tagliati. Io penso che parte delle persone che oggi fanno polemica sulle dinamiche interne sia in realtà polemiche più legate all'aver promesso una cosa in campagna elettorale quando si pensava che poi tutto non si mantenesse effettivamente, ma poi quando i soldi entrano nel portafoglio, bisogna toglierli per ridarli indietro, cominciano le vere titubanze, quindi secondo me da parte loro non è facile rimanere nel Movimento. Per me lo è, non ci vedo assolutamente niente di strano. Ecco, ma come si spiega il calo di consenso del Movimento? Allora, io credo che questa questione sia legata al fatto che ci siano delle politiche di lungo percorso che abbiamo messo in atto, in particolare quella del reddito di cittadinanza. Non sono misure che spiegano gli effetti in due mesi. E purtroppo, lo dico con un senso di autocritica generale verso il Paese, ci hanno abituato all'idea che le politiche entro una settimana debbano dare una risposta. Non è sempre così. Le politiche strutturali e ben fatte danno risultati a distanza di due tre anni. Però anche voi, quando eravate all'opposizione come Movimento, siete nati proprio con una critica molto virulenta ai politici che lavoravano in quel momento. Quindi diciamo avete alimentato anche voi quella critica o no? Non su politiche strutturali. Era una lamentela rispetto al fatto che la cittadinanza non veniva ascoltata su delle problematiche che erano cogenti come l'esigenza di aiutare le persone che non riescono ad arrivare a fine mese. Le piazze del Vaffa nascono per esempio dalla necessità di tagliare il vitalizio e di ridurre gli stipendi parlamentari, cosa che siamo riusciti ad ottenere e sulla quale invece si sta tornando indietro in questo momento. E no, sa perché poi le faccio questa domanda? Perché anche Conte, Presidente del Consiglio, spesso insiste contro Salvini sull'idea di un Salvini che, dice Conte, fa politica sulla paura. Il Vaffa non era anche un po' quello? Qual è la differenza? No, io non penso. Un conto è fare politica sulla paura delle persone rispetto alle invasioni o al fatto che perdiamo sovranità. Un'altra è invece chiedere alle persone di partecipare attivamente anche con dei termini forti. L'idea del 5 Stelle nasce da quello e noi non pensiamo di rivoluzionare il mondo ma di attivare il percorso di democrazia diretta. Quello è il grande obiettivo. Quindi spingere i cittadini ad interessarsi della vita politica del proprio paese perché se tu non pensi al tuo Stato, il tuo Stato pensa a te. E non sempre magari nella maniera in cui vuoi. Quindi è questa la differenza grande, secondo me. Sì, dopodiché voi siete arrivati al governo, avete acquisito delle esperienze. È ancora valido il motto dell'uno vale uno? E perché in Parlamento i gruppi si dividono, il gruppo si divide spesso? Dal mio punto di vista è ancora valido, così come molte regole del movimento, come i due mandati, come l'idea, lo ripeto, delle restituzioni delle eccedenze degli stipendi. Mi rendo conto che sia difficile rimanere all'interno del movimento ed è ancora più difficile quando si è maggioranza di governo perché bisogna avere la capacità di trovare un compromesso. E forse non tutte le persone che si sono candidate con noi inizialmente pensavano che sarebbe stato così difficile. E' vero che penso che bisogna mettere, scusi se la interrompo, le priorità del Paese di fronte a quelle che poi sono le proprie commissioni. E' vero che Bonafede ha minacciato le dimissioni? No, lo sento da lei oggi. C'era sui giornali. E' vero che c'era dei giornali. Fino a che punto potrà andare avanti il muro contro muro sulla prescrizione? Perché o si trova una mediazione oppure che succede, me lo dica lei. Guardi, io sulla prescrizione sono abbastanza stupita. Quando si è formato il governo, le forze di maggioranza erano tutte consapevoli che al primo gennaio sarebbe entrata in vigore questa normativa che tra l'altro abbiamo approvato col governo precedente. Mi stupisce il fatto che, in particolare Renzi, che qualche tempo fa diceva che la prescrizione andava bene, anzi proponeva di anticiparla. Rispetto alla proposta avanzata da noi, oggi lamenti tutta questa problematica. Sicuramente va affiancata alla riforma e alla velocizzazione dei processi. Io mi metto nei panni sempre delle famiglie delle vittime. E penso ai familiari della ThyssenKrupp, delle vittime della ThyssenKrupp. Non si possono sentire rispondere da uno Stato. Mi spiace, i tempi sono finiti. È andata così e la prossima volta forse si velocizzeranno. Diciamo che il tema ovviamente è politico. Quando Zingaretti vi dice anche un po' che dovete decidere da che parte dovete stare. Faccio sempre la controparte, ma qualcuno lo deve pur fare. Quando facciamo le interviste noi portiamo sempre le criticità, no? Perché così magari si chiariscono. Lei, mi faccio un esempio, avrebbe fatto la ministra del governo Salvini? Io avrei fatto la ministra del governo Salvini? Sì, non ci sarebbero stati problemi, certo. E non esclude in assoluto di poter tornare al governo con la Lega? Guardi, dal mio punto di vista abbiamo fatto delle cose positive con entrambi i governi. Io con la Lega, lo dico sempre, siamo riusciti a raggiungere dei grandi obiettivi. Uno in primis, quello di permettere all'amministrazione che avevano degli avanzi, dei soldi risparmiati, di poterli investire in servizi per i cittadini dalla buca al sistemare gli edifici pubblici, cosa che prima non era possibile. Col PD oggi stiamo riuscendo ad ottenere altre cose, come per esempio alzare gli stipendi dei vigili del fuoco e parificarli a quelle delle altre forze di polizia. Quindi un domani potreste tornare ad allearvi con la Lega? Questo non glielo so dire. Sicuramente il punto non è con chi ci si allera, ma gli obiettivi che si portano avanti, il programma che si tende a dare. Ma lei di suo sente che i suoi obiettivi sono più vicini a quelli del PD o a quelli della Lega? Sono vicini a quelli che si sottoscrivono prima di fare il governo, non si possono dire a prescindere. Quindi con la Lega abbiamo fatto cose positive e col PD ne abbiamo fatte di positive, sulla base però di accordi prestabiliti, perché chiaramente abbiamo visioni politiche differenti. E questo non l'abbiamo mai negato. L'ha visto più col PD o più con la Lega? Visioni politiche differenti? No, no, con tutti. Noi proprio con tutti. Va bene, allora Sanremo intanto 53,36 punti in più rispetto alla seconda puntata dell'anno scorso. L'ha visto Sanremo? Se fosse stato un'acchermesse di musica metal l'avrei visto volentieri. Musica metal? Aspetta, Domenico a Sanremo, qua la tua ospite con la massina, non so chi sia, faccio presente che qui c'è una ministra della Repubblica che ha appena dichiarato la sua passione per la musica metal. Non so cosa ne pensi la tua ospite. Si chiama Fabiana Dadone, guida la funzione pubblica. La ministra, chiediamo a Mischeta che... Grande, un applauso! E soprattutto infiamma l'altro festival ma questa sera sarà anche nella serata dei duetti. La ministra in studio dice che la chiama la musica metal. Mischeta non è molto metal, però è pazzesca. Però anch'io amo la musica metal come la ministra che saluto. E non so se fa neanche dell'altro festival ma l'invito a vedere anche quello. Stasera comunque facciamo Unplayin. Palco dell'Ariston e altro festival. Perché duetterai con Elettra Lamborghini. Esattamente, con Non succederà più. Ne vedrete delle belle. Sarà pazzesco. Sarà più che pazzesco ragazzi. Come gli ascolti del festival, grazie. Grazie a voi, buon lavoro, buon lavoro. Grazie alla ministra. La invitiamo a Sanremo a cantare la prossima volta. Cosa canta? Canzone preferita? Ah no, io non canto. Non si sa mai? Suonavo la batteria anni fa ma non sono particolarmente intonata. Canzone preferita? La canzone preferita è una degli Inflames ma è proprio di super nicchia. A me piacciono i zetti, quindi facciamo una bella coppia e ci vediamo domani dalle 8 alle 10. Grazie per essere stati con noi.